Eliane Vogelpolski, una delle cosiddette madri del modello sociale europeo degli anni Sessanta. La pioniera del femminismo avrebbe apprezzato le due misure per promuovere i diritti delle donne adottate dalla prima presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La parità di genere nel Collegio dei Commissari e un portafoglio dedicato all'uguaglianza sono dei passi avanti per rafforzare la posizione delle donne, ma è necessario fare di più. È necessario promuovere le quote rosa negli Stati membri perché ha dimostrato che possono effettivamente contribuire a ridurre il divario di genere, come è successo nella Commissione europea. Sarebbe un buon modo per spingere gli Stati membri verso l'uguaglianza di genere. A Lisbona è stato presentato un nuovo documentario sull'avvocato belga che ha combattuto per la parità della retribuzione tra uomini e donne. La proiezione è stata promossa dalla piattaforma portoghese per i diritti della donna. Una delle co-direttrici del film vede già un cambiamento nelle generazioni più giovani. Sono un'insegnante a molte studentesse e vedo che sono più sicure del proprio valore, ma anche più sicure del loro contributo nel creare un mondo che si adatti meglio alle loro esigenze. Il portafoglio sull'uguaglianza di genere della Commissione europea è destinato a Elena Dalli, ex ministro maltese che si è occupata della questione in passato, ma per alcuni eurodeputati i titoli dei portafogli dei commissari europei sono piuttosto oscuri. La prima sfida è per noi capire quale sarà il livello di finanziamento per ciascuna delle politiche. La seconda è capire quali politiche corrispondono ai titoli assegnati a ciascuno dei commissari. Eliane Vogelpolski lascia un'eredità che verrà portata avanti con la creazione di una task force sull'uguaglianza di genere all'interno della Commissione europea.